Buongiorno, eccoci con le nuove riviste di altro consumo, quelle del mese di maggio, che sono inchieste in tasca e in nova. Su inchieste abbiamo scelto come tema di copertina il test sulla pasta integrale, abbiamo confrontato le principali marche e premiato quelle che oltre ad aver superato brillantemente i test, non hanno presenza di micotossine. Quindi insomma il test vi può aiutare nella scelta dei prodotti migliori. Per quanto riguarda in tasca, il tema che invece abbiamo scelto in copertina è quello relativo alle vendite di seconda mano, una strada sempre più utilizzata dai consumatori anche in un'ottica di sostenibilità. Vendite di seconda mano che vengono spesso fatte online, ebbene vi diamo una serie di indicazioni sugli aspetti fiscali, le garanzie, cosa si può fare e cosa no. Infine su innova, come tema di copertina abbiamo il test sui tablet, sempre più utilizzati per motivi di lavoro, di studio, per il tempo libero, come sempre attraverso le nostre valutazioni vi consentiamo di individuare i prodotti migliori. Bene, come sempre vi ricordo che le nostre riviste sono disponibili anche in formato digitale dal sito altroconsumo.it o attraverso l'app in edicola. Buona lettura, lasciateci i vostri commenti e ci sentiamo in occasione delle presentazioni del prossimo mese.